Bene, buonasera a tutti. Grazie di questo invito. Le domande sono complicate e per fortuna Pier ha usato la cautela di dire che il percorso davanti a noi è lungo e periglioso, non ci sono risposte facili a domande difficili e che la politica deve essere consapevole dei suoi limiti, vorrei dire deve fare i conti con la drammaticità delle questioni attraverso un grande bagno di umiltà. Di umiltà e di concretezza, mentre invece noi abbiamo uno dei grandi difetti della politica italiana, è quello delle parole roboanti e dell'astrattezza della sua azione, quindi della sua pessima incidenza sul piano della realtà dei rapporti sociali. Allora proviamo a battere qualche chiodo. Io la vedo in questo modo. Noi abbiamo un sistema pubblico che gestisce la metà delle risorse del prodotto interno lordo del Paese. Cioè metà del PIL italiano passa attraverso le mani del sistema pubblico. Cioè abbiamo una dimensione della spesa pubblica che è a livello di Paese scandinavo. Credo che in cifra assoluta gli 800 miliardi di spesa pubblica italiana siano grossomodo pari a quelli del sistema pubblico tedesco, con la differenza che loro sono 20 milioni di più e hanno un PIL che è una volta e mezzo il nostro. Quindi abbiamo un'enormità della nostra spesa pubblica. E la tragedia è che questa spesa pubblica non si traduce né in sviluppo economico né in uguaglianza sociale. Sviluppo economico è sotto gli occhi di tutti. Siamo un Paese che non cresce come gli altri. Noi cresciamo la metà dei Paesi europei, della media europea, negli ultimi 15-20 anni. E adesso che si va indietro andiamo indietro il doppio, il triplo, della media europea. Quindi dal punto di vista delle performance, della crescita economica siamo messi maluccio. Ma la cosa più sconvolgente è che questa enorme spesa pubblica non corregge minimamente le distorsioni che il mercato produce dal punto di vista della disuguaglianza sociale. Applicando il famoso indice di Gini agli effetti della spesa pubblica italiana, noi vediamo che la spesa pubblica, il livello di disuguaglianza calcolato prima dell'intervento della spesa pubblica e dopo l'intervento della spesa pubblica è pressoché identico. Cioè abbiamo una spesa pubblica che fotografa la realtà ma non la corregge minimamente. Allora di fronte a questa situazione, cioè una situazione di una spesa grande, è secondo me difficilmente aumentabile ancora. Cioè è difficile immaginare che si possa far crescere ancora il livello della spesa. Peraltro abbiamo anche un livello di pressione fiscale complessiva, poi abbiamo detto giustamente mal distribuita, ma abbiamo un livello di pressione fiscale complessiva che anche questa è a livelli di paesi scandinavi. Quindi è difficile far crescere la torta del sistema pubblico dal punto di vista quantitativo. Il punto è che noi dobbiamo incidere in maniera significativa dal punto di vista qualitativo. Questo è secondo me il principale banco di prova della politica, anche perché la politica può invocare tante attenuanti generiche specifiche nella sua difficoltà di incidere sul mercato, tanto più nella dimensione globale di cui parlava Pier. Ma invece ne può invocare poche di attenuanti quando si tratta di far funzionare in maniera ottimale la spesa che essa stessa amministra, perché la spesa pubblica per definizione è amministrata e gestita dalla politica. Quindi questo, a mio modo di vedere, è il primo banco di prova del riformismo, è il primo chiodo da battere. E cioè noi siamo in grado di mettere in campo un'azione severa di revisione complessiva della spesa. Adesso è entrata di moda, quando cominciò a parlarne Padua Schioppa sembrava una stravaganza, adesso è diventata uso corrente l'espressione spending review. Questo è il tema di fondo. Ma guardate che questo è un tema, è una delle questioni più dure da fare e una delle questioni più indispensabili da fare. Faccio solo un esempio. Ogni volta che si discute di bilancio dello Stato, quindi ogni anno di questi tempi, ci sono le forze di polizia, i vari sindacati delle forze di polizia, che lamentano che gli agenti sono mal pagati e mal equipaggiati, non c'è la benzina per le volanti, non possono cambiare le gomme. Tutte cose naturalmente vere, poi come sempre quando c'è una rivendicazione si esagera un po', ma nella sostanza sono cose vere. Se non che poi giriamo la pagina e facciamo i raffronti tra quanto spende per le forze di sicurezza l'Italia e quanto si spende a livello europeo, noi vediamo che noi spendiamo di più degli altri, non di meno degli altri. E allora dov'è il problema? Il problema è che solo... paghiamo il capo della polizia, più che il precedente degli Stati Uniti, paghiamo il capo della polizia, ma soprattutto se ne avessimo uno solo di capo della polizia, ancora forse ce lo potremmo permettere e sarebbe già un forse, ma ne abbiamo quattro. E abbiamo giù per gli rami una duplicazione, che è la regola, non l'eccezione. Penso che solo in Italia esistano i reparti antisommossa della Guardia di Finanza. In nessun paese del mondo credo esista un reparto antisommossa della polizia che dovrebbe essere in camice bianco e diciamo... essere attenta a, come dire, perseguire i reati di evasione fiscale. Immagino che appunto difendere i palazzi in piazza contro l'assalto dei teppisti non dovrebbe essere nelle mission fondamentali della Guardia di Finanza. È un esempio banale per dire però quanto questa revisione della spesa non sia un fatto, come dire, di macchiaggio, ma sia qualcosa che deve andare al fondamento. E voi immaginate, perché siete tutta gente che sta al mondo, quanto complicato sia dire alle forze di polizia italiane che da sei bisogna arrivare a ridurre... Ecco, cioè bisogna fare in modo che la produttività di quella spesa diventi elevata, che si riesca a gestire un servizio migliore spendendo in modo significativamente minore rispetto a quello che si spende. Questo a me sembra il primo nodo, un nodo fondamentale che la politica deve affrontare e su quale credo il PD debba impostare la sua azione. C'è poi un secondo punto più complesso che accenno soltanto perché il tempo è breve, che ha a che fare con il tema della produttività del lavoro. Ora, ha ragione Pier quando dice attenti alla retorica delle riforme strutturali sia perché non producono effetti congiunturali ma questo secondo me è il meno perché appunto il cammino lungo comincia con un passo breve quindi se fosse la direzione giusta il fatto che ci vuole tempo non è un punto di rimedio. Però è evidente che noi abbiamo un problema secondo me drammatico di riqualificazione della nostra forza lavoro in maniera diffusa. c'è un problema di collegamento con il sistema formativo che si è completamente scollato e c'è un problema anche di cambiamento secondo me profondo della logica delle politiche del governo del mercato del lavoro. Noi dobbiamo passare io questo sono convinto sono molto molto convinto di questo noi dobbiamo passare da un sistema di tutele che ancora è concentrato sulla difesa del posto di lavoro lì dove sta ha una tutela nuova che tuteli il lavoratore nell'inevitabile cambiamento e passaggio da un lavoro a un altro che accompagna necessariamente la vita in particolare delle giovani generazioni. Cioè l'idea che si possa ancora utilizzare gli stessi strumenti degli anni 70 per il principio e il valore il valore è la cittadinanza del lavoratore cioè il lavoratore come cittadino e non come suddito ma oggi quel valore il valore del lavoratore come cittadino e non come suddito ha bisogno di una strumentazione nuova se noi non cambiamo la strumentazione neghiamo il valore che affermiamo. Terzo punto finisco è la questione dell'Europa qui secondo me si gioca buona parte del del passaggio dei prossimi mesi tra l'altro noi abbiamo anche questa avventura della presidenza di turno che non va ovviamente sovraccaricata di aspettative sappiamo che è poco più che un fatto rituale tuttavia consegna al paese che ricopre questo incarico un qualche potere di agenda e accompagnato da una strategia politica e da una intenzionalità politica chiara può produrre dei risultati ora vedete noi in questo momento vediamo confrontarsi in modo paralizzante due ragioni e due torti c'è la ragione e il torto dei paesi per così dire del nord c'è la ragione e il torto dei paesi del sud la ragione dei paesi del nord a cominciare dalla Germania è abbastanza evidente la Germania oggi è il paese più forte d'Europa perché ha fatto delle riforme profonde negli anni passati anche come dire con qualche sofferenza all'inizio degli anni 2000 Schröder e Fischer cioè il governo rosso verde indicarono un'agenda 2010 alla Germania che ha consentito nel 2010 alla Germania di essere il paese che è cresciuto di più in Europa nel 2000 era considerato il grande malato d'Europa e adesso è un po' difficile spiegare ai tedeschi che devono dopo essersi accollati il peso della riforma del loro sistema economico sociale di welfare che possibilmente dovrebbero accollarsi i costi delle nostre riforme perché insomma è un po' difficile convincere gli operai della Volkswagen a essere solidali con gli italiani che per esempio dispongono di un patrimonio immobiliare più grande in cifra assoluta in 60 milioni di quello di cui dispongono 80 milioni di tedeschi noi non veniamo percepiti in Germania come un paese povero che come dire ha diritto alla solidarietà noi veniamo percepiti come un paese ricco e disorganizzato male organizzato e che deve innanzitutto guardare dentro se stesso per trovare la strada dello sviluppo questa naturalmente è a mio modo di vedere la ragione che hanno i nordici che si accompagna ad un torto naturalmente il torto è quello di al momento ostacolare qualunque evoluzione del sistema europeo nel senso di consentire politiche espansive a livello di unione non a livello tanto di singoli stati quanto a livello di unione poi spiegherò qualcosa in più su questo dall'altra parte sto concludendo dall'altra parte abbiamo le ragioni e i torti dei paesi del sud ora il torto l'ho già detto cioè noi non possiamo pensare di fare come dire quello che noi dobbiamo fare per l'Italia e quindi ristrutturare riorganizzare questa nostra enorme spesa pubblica i tedeschi non riescono a capire come sia possibile che un governo in 800 miliardi di spesa non riesca a trovare lo spazio di alcuni miliardi per ridurre significativamente il cuneo fiscale è una cosa che è impossibile da spiegare all'estero ma non è possibile in via di principio che in un bilancio così grande non ci sia lo spazio per una manovra così piccola questo dibattito è tutto finto questo sulla finanziaria che si sta svolgendo sulla legge di stabilità che si sta svolgendo in questi giorni è finto perché sostanzialmente il governo Letta ha rinunciato a qualunque intervento incisivo sulla spesa e si è limitato a gestire il pilota automatico che gli ha lasciato in eredità al governo Monti gli famosi stabilizzatori automatici e infatti i nostri conti in questo momento sono in equilibrio l'aereo sta diciamo sembra tenere la rotta peccato che avendo i motori spenti è una rotta che porta verso il basso cioè l'economia reale sta andando giù se non accendi i motori non riva in su e per accendere i motori le risorse oggi come oggi le devi trovare dentro quel bilancio non c'è un'altra cosa da fare con la ridistribuzione del carico fiscale e noi stiamo facendo il contrario di quello che la terribile Europa ci sta raccomandando Olli Renna ha raccomandato e c'è il testo scritto delle raccomandazioni della Commissione Europea approvate dal Consiglio col voto dell'Italia che noi dobbiamo spostare peso fiscale dal lavoro e dall'impresa al patrimonio e ai consumi e abbiamo fatto esattamente il contrario in quest'anno quindi voglio dire il problema è ce l'abbiamo noi questo è un torto che noi abbiamo che è difficile dire bisogna andare a battere i pugni sul tavolo in Europa è una cosa del tutto velleitaria d'altra parte qual è la nostra ragione la nostra ragione è che noi possiamo fare politiche di rigore di aggiustamento fiscale solo in un contesto di espansione economica altrimenti non si regge dal punto di vista sociale e allora io chiudo con questo la strada a me sembra essere quella che noi dobbiamo fare dell'euro la nostra risorsa fondamentale noi abbiamo un paradosso abbiamo la moneta più stabile più forte del mondo in questo momento ne paghiamo anche per certi versi i costi prima Pier diceva è una delle corde che abbiamo al collo sì ma l'euro proprio perché la moneta più stabile più forte del mondo può diventare invece una moneta che attrae investimenti da tutto il mondo allora il lavoro che si sta facendo e anche il governo credo sia impegnato su questo e va incoraggiato sicuramente il PD lo deve incoraggiare la strada della capacità fiscale la capacità di budget dell'eurozona che a me sembra poter essere una chiave di volta per la soluzione di questo apparentemente insolubile rompicapo tra l'Europa del nord e l'Europa del sud l'area dell'eurozona deve diventare capace di attirare capitali per investimenti produttivi potremmo chiamarlo enfaticamente un grande piano Marshall per lo sviluppo dell'Europa attraverso l'emissione di titoli non per pagare per mettere in comune il pagamento del debito passato ma per accendere un debito virtuoso appunto finalizzato a investimenti che consenta di inserire queste le politiche difficili ma che vanno fatte di risanamento dentro un contesto di crescita come solo una politica di investimenti insieme a una politica naturalmente di alleggerimento della pressione fiscale sul lavoro ci può dare ecco in questo senso l'Europa è e giustamente sia il documento sia la relazione di Pier l'hanno sottolineato è il passaggio chiave il punto d'attacco decisivo per una strategia per la ripresa economica e per consentire all'Italia di uscire da questa doppia trappola nella quale sta la trappola della stagnazione economica e la trappola della disuguaglianza grazie grazie